Il 2017 è stato l'anno delle Silence Breakers, le donne che hanno avuto il coraggio di rompere il muro di silenzio attorno alle scabrose vicende di molestie subite nel luogo di lavoro. Gli ultimi mesi dell'anno sono stati un susseguirsi di rivelazioni e denunce nei confronti di attori, produttori e registi e la BBC ha deciso di costruire un resoconto dettagliato dello scandalo che ha travolto il mondo dello star system. Il lavoro, un docufilm della durata di 90 minuti, è stato affidato alla regia di Ursula McFerlane, già autrice di documentari tra cui Charlie Hebdo, Three Days That Shock Paris e della serie Netflix Captive, si parlerà delle controversie abitudini di Weinstein grazie alle testimonianze delle principali accusatrici del potente produttore, Rose McGowan, Asia Argento, Ashley Judd e Salma Hayek. Non è tutto, le autorità più importanti di Hollywood hanno deciso di istituire una commissione antimolestie per la parità nei luoghi di lavoro. La commissione sarà presieduta da Anita Hill e si è formata grazie all'iniziativa della produttrice di Star Wars, Kathleen Kennedy e da molte altre donne dirigenti del settore. Grazie a tutti.